Benvenuti cari cripto afezionati in questo nuovo video aggiornamento per quanto riguarda il buon Linea. Cosa abbiamo visto su Linea? Abbiamo comunque interagito sulle campagne di Galaxy che ci hanno impegnato sicuramente tantissimo. Ci hanno herdroppato comunque questo nuovo NFT commemorativo comunque che va ad attestare che abbiamo partecipato e abbiamo totalizzato un tot di punteggio nella testnet e quindi abbiamo diciamo aiutato il sistema a creare appunto questo ritorno e questo test comunque sulla loro testnet. E abbiamo visto anche che sul mercato secondario gli NFT, comunque quelli più alti, quel punteggio più alto che in molti siamo riusciti a raggiungere era venduto tra i 1000 e i 1500 euro che poi si è abbassato, è arrivato a 0,1 Ethereum, insomma ovviamente ha avuto una movimentazione abbastanza ampia. Però ecco si potevano avere determinate occasioni. Io penso che questo NFT però devo essere sincero possa essere utile per il futuro come hanno scritto loro, riconoscimento per aver incentivato la testnet. In questo caso abbiamo testato in tutto e per tutto la testnet sotto ogni punto di vista. Quindi punteggio totale abbiamo utilizzato praticamente tutto e quindi non è un qualcosa da sottovalutare perché su un lungo periodo potrebbe dare delle loro soddisfazioni. E con questo mi collego al discorso di oggi, ovvero oggi andremo a vedere i passaggi che ci sono da fare per subentrare o inserirsi all'interno della mainnet di linea per andare a testare le varie DAP, i vari bridge, chi più ne ha più ne mè. Perché essendo anche lei comunque un layer 2 ci dà la stessa considerazione di un ZK Sync, di un Arbitrum, di un Optimism, di uno Scroll. Quindi tutti quanti sono sulla stessa fascia, sulla stessa linea, perciò che cosa richiedono? Richiedono volumi all'interno della propria chain per portare ovviamente interesse e tutto utilizzo comunque a livello di fees, livello di spostamenti eccetera eccetera. Ergo come per quanto riguarda ZK Sync necessitano di tempo per lanciare poi un eventuale proprio token. Seppur non l'abbiano ancora confermato, seppur abbiano detto che non si sia al momento parlato comunque di token, c'è comunque una DAO all'interno di linea che potrebbe fare la stessa identica cosa, bene o male, di Arbitrum. ZK Sync invece ha un discorso diverso, mentre invece Arbitrum è utilizzato soltanto come DAO e linea potrebbe fare la stessa cosa oppure cambiare poi sul lungo periodo e prendere le sembianze di ZK Sync che poi subentrerà come pagamento delle fees. Però ovviamente sono tutte cose ancora con un punto di domanda finché poi non ci sarà effettivamente un token decentralizzato come hanno detto loro, anzi coin in questo caso. Utilizzare comunque linea sotto ogni punto di vista sulla mainnet potrebbe darci dei grandi vantaggi sul futuro. Oltre che avere comunque una lettura di questo NFT che a quanto pare potrebbe avere molto più senso detenerlo, ecco interagire ovviamente avrebbe altrettanto senso per aumentare la nostra potenziale elegibilità di un futuro euro per linea. Anche perché ricordiamoci che con tutto il capitale che hanno raccolto sinceramente mi aspetterei una ricompensa in qualche maniera perché mi sembrerebbe troppo strano che non rilascino niente. Poi tutto è possibile però vediamo. Quindi non perdiamo tempo, veniamo subito a schermo e capiamo quello che dobbiamo fare per poter aumentare la nostra elegibilità e quali sono i passaggi attualmente più importanti per creare comunque volume. Eccoci criptoaffezionati, allora non voglio perdere tempo perché c'è un po' di roba da guardare e da tenere in considerazione quindi non voglio dilungarmi troppo, ne ho parlato appunto prima, anticipatamente nell'apertura del video quindi cominciamo subito con quale sezione? La sezione dei bridge, quindi come importare da altre reti su linea direttamente nella mainnet. Allora se dobbiamo andare a prendere in considerazione comunque una situazione di volumi e anche di transazioni sicuramente una parte importante è quella del passare tramite il bridge ufficiale di linea che è quello che abbiamo qua davanti. Già l'abbiamo comunque utilizzato molto probabilmente, la maggior parte di voi l'avranno già utilizzato perché comunque passare direttamente da fonti ufficiali ecco ci può dare un'eventuale elegibilità in più sul futuro. Ergo quindi linea bridge secondo me è il primo passaggio che bisogna fare in assoluto per arrivare e utilizzare poi il capitale sulla linea di linea, ok? Quindi molto semplice in questo caso, allora ora io ero su linea, esempio sui tiri un mainnet che cosa bisogna fare? Bisogna andare a prendere un quantitativo che si vuole, io adesso ne ho pochi su linea in realtà non ho ancora spostato tanto perché è uno 001 tipo di etiri un poca roba, però quello che bisogna fare semplicemente è che cos'è? Automatic claiming, non fate il manual, fate direttamente sull'automatico e fate start bridging. Qua dovrete andare a pagare comunque le fees, ovviamente sulla rete di etirium, in questo momento le fees sono un po' altine quando io l'avevo fatto mi ha fatto pagare tipo 3 dollari di fees, adesso sono diventate già 8 perché magari si è intasato un pochettino però una volta che fate quello, quindi pagate le fees che avete visto qua di fianco nel pop-up, siete a posto qua sotto che cosa succede? Succede che avrete questa transazione, io adesso l'ho fatto su questo wallet che utilizzo sempre per fare i video e qua sopra che cosa dovrete fare? Semplicemente attendere l'elaborazione, qua bridging complete, prima c'è bridging pending e una rotellina che continua a girare, finché non diventa verde non li riceverete. Se invece poi vorrete portare comunque i capitali da linea mainnet a etirium, stessa cosa, nel senso andate a digitare comunque quello che volete cambiare, però in questo caso dovete fare il manual claiming, quindi qua dice che hai il claim funds manually quindi dovrete cliccare in quel caso lì e seguire tutta questa situazione qua per fare il bridge con ovviamente ragazzi tutti gli esempi del caso che vi mettono qua sotto, quindi è davvero molto semplice io vi metto comunque il link così che possiate comunque andarlo a trovare anche se comunque è direttamente scritto tutto qua sotto quindi questo sicuramente è una parte importantissima ed è il primo bridge ragazzi, quindi segnatevelo assolutamente successivamente che cosa abbiamo? Ne abbiamo un po' di bridge perché linea comunque è grossa, ha grossi comunque investitori dietro ha grossi interessi dietro perciò tutti quanti stanno cercando di metterne subito come bridge, come possibilità di fare il bridge il primo che andiamo ad interfacciare è layer swap che in realtà l'abbiamo già utilizzato più e più volte ragazzi qua semplicemente adesso non mi ricordo se si possa fare, vediamo un po', sì anche su Arbitrum One vediamo un po', adesso dovremmo connettere il wallet che è qua, eccolo qua quindi connettiamo il wallet e vediamo un po' se me lo fa fare anche da Arbitrum perché non mi ricordo sinceramente non mi ricordo neanche quanti Ethereum ho sinceramente ok questo qua sempre uguale, you will receive, ok quindi layer swap le fees minimo l'amount minimo è 0025, ok quindi in questo caso ho un Ethereum comunque su Arbitrum se non sbaglio ma anche se mi sembra strano perché in teoria non dovrei avercela ok adesso mi hanno cancellato tutto però semplicemente ci colleghiamo, mettiamo linea come situazione e facciamo poi il trasferimento adesso vediamo un po' se 0025, io adesso voglio provare a fare sempre così swap now, vediamo un po', dovrebbe arrivarmi pochissimo in realtà perché infatti poi tra le fees e tutto mi vanno via in questa situazione send from wallet, ok Arbitrum One, perfetto quindi ce lo fa comunque in via, ok insufficient found perché ovviamente non sono abbastanza in questo caso però però da Arbitrum One ce lo fa fare quindi potete farlo tramite layer swap tranquillamente da Arbitrum per dire ho preso adesso una chain che è comunque cheap nei trasferimenti verso linea e attenzione che ci vuole un pochettino, in realtà un 5-10 minuti a me è andato subito lo swap, anzi il bridge perciò layer swap secondo me potete utilizzarlo, molto molto semplice successivamente che cosa abbiamo? Abbiamo auto, che cosa bisogna fare? Stessa identica cosa colleghiamoci, prendi tutto, quindi andiamo a prenderci, fermiamo, ok ci siamo e in questo caso dobbiamo fare il bridge, eccolo qua e nel bridge noi dobbiamo andare a selezionare la rete che vogliamo e in questo caso ragazzi uguale anche per Arbitrum possiamo fare va beh Ethereum, Arbitrum, Optimism, ZK-Sync, Era, Polygon ZKVM quindi anche qua ragazzi tanta roba secondo me come utilizzo perché possiamo andare ad interagire davvero con tante chain e sfruttare questa movimentazione io ad esempio prendo un ZK-Sync, Era che sicuramente ho sopra degli Ethereum, infatti 0.34 e da qua potrei tranquillamente spostare cosa bisogna fare ovviamente? Minimum transfer amount, vediamo quanto richiede 0.05, ok 0.05, send et h to linea quindi in questo caso dobbiamo confirm and send quindi ci si aprirà il pop up, vediamo un po', eccolo qua e ci richiede 0.34 et h, quindi 0.34 centesimi, perdon, di trasferimento con un totale di 11.59 quindi molto semplice e vi direi appunto allora, alt devo ancora provarlo no scusatemi, alt io l'avevo già provato in realtà su questo non l'avevo provato ancora layer swap quindi alt molto buono l'unica cosa che al di fuori del bridge di linea con l'ufficiale potrebbe metterci un pochettino di più nel senso se sul bridge ufficiale sono 5-10 minuti magari sugli altri può arrivare anche una mezz'oretta 20-30 minuti, ecco quindi valutate anche questa cosa io personalmente li proverei un po' tutti cioè uno swap lo farei su tutti quanti perché sono interazioni diverse e quindi è una cosa in più comunque su una potenziale leggibilità sulla mainnet di linea ragazzi perciò questo mio pensiero e cosa che io personalmente farò poi ovviamente ognuno di voi valuterà se farlo oppure no successivamente siamo su the swap stessa identica cosa adesso non mi sto a mettere a fare le stesse cose quello che abbiamo in questo caso come vedete c'è anche linea quindi da qua noi possiamo selezionare io vorrei provare sempre arbitrum che tanto ci piace colleghiamo sempre metamask andiamo un po' ok from arbitrum to andiamo a prendere eccolo qua linea sempre TH possiamo anche tra l'altro spostare altre ceni in questo caso però utilizzate TH perché TH è quello che serve per creare comunque poi pagamenti delle fees su rete linea attualmente è così perciò valutatele l'unica cosa che è un po' svantaggiosa su the swap sono le fees che sono 001 che non è tantissimo però sono un pochettino più alte rispetto agli altri questa è l'unica cosa però alla fine come detto lo fate una volta poi punto fine stop nel senso provate magari tutti però si fa una volta su tutti poi si va ad utilizzare principalmente quelli con fees più basse in assoluto bene quindi fatto the swap dobbiamo passare su eccolo qua appdln che questa qua è un'altra comunque piattaforma molto interessante che è simile anche a the swap come attivazione conferma comunque del collegamento in questo caso abbiamo sempre sulla stessa situazione qua andiamo a prenderci un'altra rete adesso cambiamo andiamo su bmb chain per dire io qua sopra non ho però gli ethereum infatti non ce li ho bmb chain e ok teniamo sempre bnb e potete ovviamente decidere su quali poter farli quindi poterli scambiare in questo caso io vado su linea e li voglio scambiare solo su eth anche perché ti danno solo questa possibilità di eth perciò qua valutate io voglio stare ad esempio un 001 di bnb vediamo un po' se mi da qualcosa ok 7001 di ethereum io faccio semplicemente confirm trade e da qua ok devo switchare su bsc perché devo ovviamente utilizzare la chain di invio faccio firma ed eccoci qua quindi sta elaborando adesso se andiamo ad aprire qua vediamo un po' qua ci fa già pagare io adesso non lo faccio perché non mi interessa però comunque vedete che abbiamo 0,65 centesimi di trasferimento quindi dln approvato assolutamente approvato per spostare comunque qualcosa se poi vi trovate bene lo continuate ad utilizzare se non vi trovate bene non lo utilizzerete come piattaforma di bridge successivamente a dln ragazzi siamo su orbiter vabbè orbiter ragazzi non sto qua a spiegarlo perché l'abbiamo visto più e più volte però stessa comunque situazione la cosa di orbiter è interessante perché si possono utilizzare più wallet e qua abbiamo sempre ethereum vi consiglio e facciamo da zk sync era to linea ok eccolo qua quindi qua vediamo un po' il minimo dovrebbe essere vi faccio 001 per vedere un po' che cosa esce fuori send vediamo le fees di pagamento quindi del trasferimento confirm and send receive 001 034 ok anche qua le gas fees sono davvero ottimali ovviamente stiamo utilizzando delle reti che hanno delle gas fees più basse ragazzi quindi questo ci va ad aiutare tantissimo o arbitrum o zk sync era io personalmente utilizzerei più che altro zk sync era perché comunque aumenta le interazioni sia di bridge sia che poi di contract e transazioni in più quindi sono manforte sulla nostra potenziale elegibilità sia su zk sync era in primis e poi successivamente ovviamente su linea come stiamo facendo in questo in questo caso altro bridge ragazzi siamo su phasenet network stessa cosa quindi ci colleghiamo andiamo a collegarci completamente qua abbiamo sempre Ethereum ricordatevi utilizzate sempre Ethereum prendiamo ad esempio Optimism ah no Optimism non ce lo fa vediamo un po' se abbiamo arbitrum su linea niente e qua mi sa che bisognerà utilizzare Ethereum Ethereum e infatti su questo bisognerà utilizzare Ethereum se noi andassimo a prendere 001 su linea non ce lo calcola neanche è fantastico facciamo 001 così ok send già uno 001 ce lo mangia via infatti fees è 001 perciò eccolo qua ok 1.14 in questo caso valutate voi perché qua si può fare solo e solamente Ethereum mainnet perciò vedete io una volta lo faccio per le fees che ci sono rispetto su layer swap che erano un pochettino più alte anzi no linea bridge ufficiale che era un pochettino più alta che eravano sugli 8 dollari qua è già un po' più abbordabile comunque come utilizzo perciò valutate sicuramente i migliori anzi facciamo un recap alla fine quindi prima guardiamoli tutti e poi decidiamo qua abbiamo Rhino questo ragazzi l'abbiamo già utilizzato anche se è utilizzato davvero tanto e Rhino personalmente ci ha messo molto di più a me come andamento come arrivo comunque del bridge perciò vi dico non lo so non so se lo farò ancora compri con Rhino personalmente l'ho già fatto quindi non mi interessa valutate voi che cosa fare non so vediamo un po' euro deposit vediamo un po' ok TH va bene però se volessimo fare Z che si inchiera vediamo un po' si ok lo sappiamo che deve essere comunque più grande di 0 linea eccolo qua dovrebbe darci token 0.01 insufficient balance io ho questo ah no è vero che qua non vogliamo fare withdraw quindi facendo così noi facciamo semplicemente il deposit quindi facciamo prima deposit e il withdraw non lo selezioniamo effettivamente non ci interessa selezionarlo però se facciamo lo switch vediamo un po' processing ok 0.60 siamo sempre nella media comunque l'unica cosa punto di domanda è la velocità nel quale può arrivare questo bridge quindi questa è l'unica cosa da valutare ultimo e poi abbiamo finito con i bridge colleghiamoci qua siamo intanto su XY come c'è in anzi come dap e qua che cosa abbiamo vediamo un po' se abbiamo su arbitrum ok arbitrum 1 se ce lo piglia perfetto e andiamo a spostare vediamo un po' se ce lo piglia arbitrum ok eccolo qua anzi z case in chiera scusate mi facciamo sempre quella perché abbiamo detto quella quindi continuiamo su quella e linea eccolo qua ok abbiamo linea quindi anche su questo possiamo fare il bridge direttamente quanto è il bridge vediamo un po' le fees dovrebbe calcolarcelo bridge fees 0 0 1 beh questa vabbè siamo sempre nella nella norma abbiamo uno 0 49 in più quindi abbiamo 0 0 1 e poi abbiamo uno 0 49 in più perciò comunque si parla di centesimi non cambia nulla allora vedendola così quelli migliori ragazzi da utilizzare poi sono all sicuro allto scusatemi poi abbiamo the swap dln e poi vabbè per me orbiter rimane sempre the best quindi questi tre secondo me sono i migliori come bridge bene adesso possiamo passare alla nuova sezione che non sono più i bridge ma sono i decks nei quali andremo a creare appunto interazioni a livello di swap e mettere comunque liquidità e quant'altro ricordatevi che in questo caso essendo su mainnet sia comunque volumi che interazioni sono importanti perciò più riuscite a spostare meglio è però non dannatevi ovviamente l'anima per per diventare pazzi nel spostare migliaia e centinaia di migliaia di dollari perché è un'infarinatura al lancio di linea così che si possa avere appunto un'interazione iniziale e poi piano piano si va a creare il focus su quelli migliori il primo che andremo a toccare è horizon dex che abbiamo già ovviamente utilizzato per quanto riguarda linea l'abbiamo visto anche in community privata principalmente e adesso possiamo utilizzare ovviamente la mainnet di linea loro tra l'altro in questo momento praticamente però non è molto vantaggiosa ci concentreremo semplicemente sull'utilizzo di horizon loro come vedete qua vi rimandano anche degli altri bridge tra l'altro ecco uno che non ho toccato è hope exchange e symbiosis per il semplice fatto che a livello di fees sono meno convenienti e sono meno meno veloci esperienza che ho avuto io però ecco si possono utilizzare assolutamente senza problemi quello che dovremo andare a fare in questo caso semplicemente è andare a creare interazione tra le parti in questo caso io voglio prendere esempio the bridge usdt vediamo un po' se mi fa fare un piccolo bridge è un piccolo bridge un piccolo swap vediamo un po' se me lo calcolo bene 018 facciamo uno swap io adesso sto facendo tutte queste cose ragazzi per darvi un esempio ok quindi niente di di pazzo o altro però è interessante giusto per capire quello che bisogna fare allora qua adesso abbiamo 006 quindi ci sta buono ok view transaction vediamo un po' come viene fuori linea scan uguale agli altri niente di nuovo close vediamo un po' sull'elaborazione quanto ci mette perché adesso la prova dell'elaborazione è quella che più ci interessa ok quindi è avvenuto abbastanza veloce comunque come transazione perciò è avvenuto anzi no però non ce lo calcolo ancora perché non ce lo calcolo ancora ok no è arrivato un pochettino in ritardo andiamo poi su your liquidity vediamo un po' non liquidini cercato our pulse no andiamo su pulse facciamo eth e usdt anzi die no solo eth vediamo un po' se troviamo qualcosa die usdt e eth eccolo andiamo a crearlo active next in questo caso facciamo 0.01 ok ah veth ci serve vth infami noi però abbiamo fatto eth allora niente che cosa dobbiamo fare dobbiamo fare un cambio cioè cambio dobbiamo semplicemente scambiare su veth facciamo 0.01 facciamo la stessa cosa quindi frappiamo i nostri eth così che ce li abbiamo già pronti anche per eventuali pool successive su altri su altri swap altri decks ok ce li abbiamo qua e sono già avvenuti quindi 0.01 presente adesso andiamo a prendere la nostra pool di usdt e eth veth perdono andiamo qua ok 0.01 abbiamo ce li abbiamo ce li abbiamo quindi approve de usdt quindi paghiamo ste fees su fees anche se vabbè sono comunque basse su questo non c'è dubbio però è una rottura che dobbiamo sempre pagare le fees su fees su fees sempre pagare però ecco questo è interessante perché comunque non c'è ancora tantissimo su linea seppur ci sia in realtà c'è ma neanche così esageratamente di interazione che bisogna andare a fare perché comunque sono proprio all'inizio mi aspettavo effettivamente di più devo essere sincero ma forse meglio per noi perché così facendo noi abbiamo anche la possibilità di provarle tutte da zero cioè tutte quante quindi non farcene scappare neanche una sostanzialmente e quindi questo ci va ad aiutare parecchio ho fatto una cazzata mi sa che sono uscito ho fatto solo approvazione ma non ho eh infatti preview ma non ho non ho fatto la supply ok andiamo a confermare view transaction tra l'altro vediamo un po' come è andato qua è ancora in pending tra l'altro cioè sul DEX è già avvenuto ma su ah sì infatti ad liquidity success però qua non è ancora avvenuto va bene un po' un po' di disconnessione tra le parti però andiamo su remove liquidity ragazzi come sempre 25% preview remove uguale e via andiamo a confermare e chiudiamo ok andiamo un po' se è già avvenuto remove liquidity multicall ok dobbiamo aspettare questa e poi siamo a posto come vedete le transazioni comunque cambiano le chain ragazzi ma non cambia comunque la solfa a livello di di utilizzo comunque quindi diciamo che siamo abbastanza tranquilli su questo cioè cambiano l'interfaccia cambiano le grafiche cambia tutto però la solfa è sempre uguale la stessa identica magari cambiano i tasti da andare a ricercare per fare remove add liquidity eccetera eccetera però poi siamo sempre lì siamo sempre lì vediamo un po' se ce l'ho fatta intanto il multicall di horizon dex è un po' lentino allora siccome ci sta mettendo un po' direi di passare intanto oltre che se no ci perdiamo nell'attesa dopo horizon dex ragazzi possiamo andare ad utilizzare sync swap questo non ve lo faccio vedere per il semplice fatto che l'avevamo già utilizzato quindi potete trovarlo nei video su zk sync però il trade è uguale quindi lo swap è identico come vedete le pull invece uguali nel senso andate a cercare quello che più vi interessa in questo caso usdt eth per dire colleghiamo però comunque il wallet giusto per fare una piccola linea mainnet ok eccola qua andiamo a po' se ci legge le stesse pull intanto guardiamo horizon dex se è andato no non ancora ok eccoci qua su linea mainnet non c'è ancora tanto in questo caso quindi dobbiamo andare a cercare comunque delle pull che ci interessano quindi nel trade ad esempio boost eth facciamo boost e andiamo ad immettere liquidità qua in boost quindi stessa identica cosa né più né meno dobbiamo fare my position deposit now e quindi qua dobbiamo prendere i c e boost e gli eth quindi da qua io adesso metto 007 però qua dovrebbe darmi un controvalore se avessi dei token però la stessa identica cosa poi andate su my position e su my position fate il remove del 25% in questo caso per le pull ragazzi vi consiglio di agire con centesimi ok centesimi per lasciarle lì e così far vedere che comunque elabora e continua a lavorare il wall bene visto sync swap possiamo passare a ecodex altro dex che avevamo già visto tempo fa e abbiamo la stessa identica cosa quindi se andiamo a digitare e collegarci eccoci qua che noi dobbiamo fare il nostro bel passaggio esempio facciamo su wrap eth che sono quelle che ci stanno comunque interessando di più vediamo un po' così 003 giusto per fare un passaggio ok abbiamo tra l'altro ecco adesso il problema è che una è in pending perciò fino a che non arriva vediamo un po' cosa ci dice 0018 quindi il gas qua si comincia ad alzare un pochettino questa no bene perché appunto se si continua ad accumulare poi va la fine della test che ci troviamo 30 eth da pagare di gas fees vediamo un po' se se questo poi miglioreranno ma è un problema in questo momento di horizon non penso di di linea sinceramente comunque abbiamo fatto lo swap il wrap andiamo sulle pool e cerchiamo quello che vogliamo utilizzare in questo caso quindi cerchiamo i pair che più ci interessano quindi guardate prima le pool e poi andate a vedere lo swap perché quello poi ovviamente vi da un maggior maggior potenzialità di ritorno fatto questo io vi consiglio di andare anche sullo staking quando arriverà adesso è in coming soon così che ci saranno altre comunque rewards e altre interazioni del proprio wallet bene visto ecodex possiamo passare a simbiosis altro progetto che abbiamo visto rivisto 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 non sto qua di lungarmi troppo però lo swap è molto semplice quindi abbiamo ethereum su linea e li trasformiamo in quello che vogliamo quindi non so adesso io qua le ido che non mi interessa però abbiamo esempio da possiamo fare su altre chain per dire oppure facciamo la stessa stessa chain quindi prendiamo sempre linea facciamo vith quindi qua stessa cosa facciamo il passaggio da eth a vith successivamente andiamo nelle pool anzi prima andiamo nelle pool e poi decidiamo e mettiamo insomma giù quello che vogliamo qua vediamo un po' se ci prende linea ok manage e qua mettiamo quanto vogliamo mettere quindi 0 0 1 0 1 ancora più piccolo add liquidity vediamo un po' se ci apre il pop up di transazione ok in questo caso si è tutto addormentato io penso che comunque in un momento di intasamento totale perché non è possibile questa cosa e anche perché farei comunque il trasferimento sempre su linea su vith semplicemente così che li vada a legge anche perché qua effettivamente non mi legge i vith seppur noi abbiamo comunque i vith queste però sono le pool che dovrete andare a decidere mi raccomando digitate linea e andate ovviamente su vith che è quello che più ci interessa vediamo un po' se ci fa prendere altro eth vith vediamo un po' infatti ce li abbiamo 0 0 1 apro veth infatti con veth funziona ragazzi mentre con eth soltanto non funziona eccolo qua infatti ah però adesso sarà ancora in linea cioè in linea in coda perché ovviamente abbiamo il horizon che si è un po' intasato va bene quindi lasciamolo andare così non stiamo ad impazzire comunque su quello che devono fare però ecco lasciamolo andare ma ricordiamoci di farlo assolutamente finito simbiosis ragazzi siamo su mess protocol che abbiamo visto e rivisto in questo caso vi consiglio di andare a rivedere comunque il video proprio di mess protocol che avevo avevo buttato fuori ma per farla proprio veloce una volta che siete connessi l'importante è che siate su la linea mainnet da qua dovrete andare a depositare deposit withdraw token ok e qua selezionate il deposito degli eth che volete fare quindi una volta che avete depositato gli eth qua sopra possibilmente linea eccolo qua quindi depositate mettete linea qua sopra depositate una volta che avete depositato ragazzi ritornate qua e aprite i buy o sell che volete fate magari market e quindi vi comprate quello che volete io lo farei con usdc così che magari fate qualche trade per fare un po' di un po' di volume però qua semplicemente buy o sell come volete potete fare anche anzi fate anche subito eth direttamente se depositate eth o viceversa andate a selezionare appunto quello che vi interessa una volta che avete selezionato andate a prendere place market sell quindi vi si aprirà l'ordine e vi si comparirà qua sotto e poi potrete fare cancel quindi chiudere l'ordine da qua direttamente su mess mess l'abbiamo visto tantissime volte ragazzi secondo me è molto molto interessante da utilizzare sul lungo periodo perché si sta muovendo comunque bene bene abbiamo finito anche la parte dei DEX adesso siamo sugli NFT invece quindi la prima che andremo a toccare è proprio Billinear che in verità ecco qua diventa un po' più un punto di domanda nel senso che sugli altri potevamo interagire in questo caso possiamo interagirci? sì però che cosa facciamo? dovremmo comprare degli NFT quindi in questo caso dovremmo andare a prenderci magari degli NFT che valgono praticamente niente per interagire però attualmente io non lo andrei a toccare diciamo che ve l'ho portato solo come informativa per quanto riguarda l'utilizzo di di queste comunque situazioni di NFT quindi saprete che qua si potrà utilizzare comunque gli NFT e perciò ecco segnatevelo ma a un momento io non vi parteciperei vediamo un po' tipo Kitchen questo qua cosa hanno messo non c'è neanche niente quindi non è proprio bellissimo sto sito però bisogna tenerlo da conto successivamente invece quello che è da tener conto sarebbe l'NFT to me che avevamo tra l'altro utilizzato nella fase di teste in questo caso però è ancora un po' in punto di domanda perché stanno creando comunque la situazione di vendita comunque dei vari NFT qua sopra si può comunque creare l'NFT stesso quindi segnatevelo anche quello successivamente abbiamo Drops ecco qua diventa già un pochettino più interessante vediamo un po' se siamo collegati colleghiamoci una volta collegati se andiamo a vedere ZK Chimps non è attivo allora vediamo un po' Explore e da qua possiamo vedere ovviamente tutti quanti però quello che stavo cercando e che volevo vedere era qualcosa a livello di vediamo switch network no io non voglio fare switch network ok linea è giusto vediamo un po' se ZK Chimps ci dice qualcosa a switch to ZK Sync non ce lo dà vediamo se riusciamo a fare un ok eccolo qua questi sono tutti su linea quindi andate nella barra comunque di ricerca andate a cercare quelli su linea vabbè in questo caso sono già stati venduti però basta che cercate su linea e andate a spulciare un po' da tenere semplicemente sotto controllo per il fatto che qua lanceranno secondo me molti NFT su linea successivamente c'è blockchain power o perlomeno omnibase che abbiamo già utilizzato ragazzi che è da utilizzare ancora adesso perché abbiamo utilizzato sia nella fase testnet sia nella fase invece di bridge comunque su layer zero quello che c'è da cercare però in questo caso se sono linea eccolo qua mint quindi qua possiamo fare su mint andare qua sopra e mintare l'NFT molto semplicemente ok quindi questo è molto 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 semplice e già fatto non dobbiamo fare nient'altro se volete potrete poi fare l'utilizzo dei vari bridge non per questo però perché in questo è già comunque legato al layer zero perciò il mint di questo NFT ci dà già una lettura su layer zero ultimo progetto per chiudere comunque il cerchio a 360 gradi ragazzi è linea bank che cos'è linea bank come abbiamo già trattato comunque anche su youtube su radiant ad esempio all'interno si utilizzerà come c'è scritto landing 2.0 sezione landing and borrowing quindi prestiti chi dà liquidità per i prestiti e chi riceve il prestito quindi quello che bisognerà fare è andare dentro launch app e in questo caso giocare un po' con la situazione del landing and borrowing io attualmente però aspetterei ancora ad utilizzarlo ve lo cito perché comunque è utile da tenere conto la prima cosa che dobbiamo andare a fare su linea bank è andare a mettere comunque degli eth come abbiamo visto quindi prendere qua una situazione ad esempio mettere in supply 001 adesso faccio sempre un esempio no no 001 forse era 0018 0019 vabbè questo lo lasciamo andare adesso purtroppo è in coda quindi non riesco a farvelo vedere comunque una volta che arriva il supply market da qua andate a prendere del borrow e quindi andate a prendere quello che potete comunque prendere in prestito e poi andrete su repay quindi qua su repay andrete a pagare quello che avete preso in prestito totalmente ok lo ripagate una volta che avete ripagato farete il withdraw quindi prendete quello che avete messo all'interno nella supply e avete chiuso non dovrete fare più niente perché queste cose qua a me non piacciono tantissimo borrow e landing semplicemente perché come vi ho già spiegato sono un po' contorta e preferisco essere un po' più elastico su altre cose però ecco almeno avete visto il progetto se vorrete utilizzarlo ricordatevi che non è una cosa obbligatoria quindi io vi ho portato dei progetti ai quali dovete ok interagire se volete se non volete interagire ovviamente ragazzi non interagite fatemi sapere come vi siete trovati ovviamente oggi siamo andati un po' lunghi però c'era da aspettarselo perché la prima guida su linea o comunque la prima guida sui progetti grossi va sempre a finire in questo modo molto affezionati spero che questo video un po' lungo come abbiamo visto anche per ZK Sync e un layer zero comunque tempo fa è abbastanza lungo però c'è tanto sul quale poter interagire ci sarebbero stati anche degli altri progetti che poi vi porterò più avanti che devono appunto migliorare qualcosina però ecco da qua si può sicuramente cominciare alla grandissima per quanto riguarda linea spero che questo video vi sia piaciuto lasciate un bel like iscrivetevi per supportarmi e accendete la campanella specialmente per non perdervi nessun aggiornamento e nessun nuovo aertrope